Eccoci di nuovo in diretta, mancano tre minuti all'ingresso di Powell in conferenza stampa, saluto Jean Ergas senza rubare altro tempo perché voglio almeno avere l'idea delle sue attese per questa conferenza di Powell, poi la commenteremo strada facendo. Jean buonasera, che cosa ti aspetti? Che Powell ti aspetti stasera? Io non mi aspetto granché, io ho letto il comunicato, chiaramente ho visto la parola più importante è ongoing, ossia continueranno questi ambienti dei tassi, dunque non dà nessuna indicazione che ci sarà la tanto sia voluta esasperata pausa nel momento dei tassi, però loro prenderanno in considerazione una serie di fattori, sia già l'effetto accumulativo, ci può essere stato, poi anche magari un impatto differito, dunque forse qui c'è un spirale che si apre, però sicuramente non è un portone, questo è estremamente importante. Vi aspetto che lui effettivamente dobbiamo rispondere a molte domande sulla recessione sì o no, sulla disoccupazione sì o no, su come loro vedono le povesi del tasso di inflazione nel tempo e quali potrebbero essere chiaramente i picchi, quali potrebbero essere il picco del rate federal funds della federal reserve? Questa è una domanda più ossea che lui dovrà rispondere, finora la reazione della borsa è stata abbastanza moderata, ha fatto circa un 0,50% dell'S&P, poi è sceso, poi è risalito, ci sarà molta volatilità questo pomeriggio, io credo che probabilmente finiremo praticamente flat sulla giornata, ma dipenderà un po' dalle risposte di Powell. Powell è un uomo che effettivamente farà molta attenzione a ciò che dice, non si impegnerà e ricordiamoci una cosa molto importante, che il voto è stato unanime, non c'è stato dissenso, questo è estremamente importante, dunque non ci sono le fazioni e qui c'è una fede compatta, dunque 75% tutto è possibile qui la prossima volta. Sì, insomma, poi oltretutto non era stato dato spazio ad altre ipotesi, quindi si era già intravista, insomma anche questa comunione di intenti per così dire, Gianna, ma tu pensi che, perché adesso dovrebbe quasi entrare, ma insomma ti chiedo anche questa cosa, che darà indicazioni sui prossimi rialzi, cioè intendo dire sull'entità dei prossimi rialzi, dei tassi di interesse, o no, o sarà più cauto nel dire, come ha sempre fatto, giustamente monitoreremo e poi decideremo? Ma io credo che lui dirà monitoreremo e decideremo, però forse infatti dirà, ossia se questo potrebbe fare piacere diciamo alle colombe, che loro saranno così attenti a guardare i dati, man mano che questi arrivano e così via, però ricordiamoci che qui c'è una fede estremamente decisa, loro devono riportarli in frazione al 2%, siamo al quad 5,1% di Core LPCI, questo non è accettabile, e dunque qui non vogliamo fare la fine dell'Eurozone, dobbiamo essere arrivati al 10,1%, sono aderrato sul headline, e ricordiamoci che i prezzi qui continuano ad aumentare, nonostante ci sia il caldo del prezzo del petrolio, ossia almeno a livello del greggio, disegna il rapporto ai massimi. Comunque questa è una situazione complessa, lui la deve giocare anche politicamente, però lui non può permettersi a questo punto di cedere a pressioni politiche e ridurre i tassi o non aumentare i tassi, o non far vedere che sta facendo tutto il possibile per cambiare le situazioni. Certo, ecco ti... Molta attenzione, molta attenzione. Molta attenzione, assolutamente. Mentre è inquadrata ancora la sala, ma Paolo non è ancora arrivato, ti chiedo questo, e poi ci interrompiamo nel caso arrivasse. Un amico, Augusto, voleva sapere cosa pensiamo delle lezioni di midterm, come andrà a finire? Secondo te come andrà a finire? Scusa, poi rispetto per conto della domanda. Sulle lezioni di midterm, cioè quanto influiranno e come andrà a finire, ma io vedo che è entrato Jerome Powell, facciamo così. Andiamo a sentire Powell, poi rispondiamo anche su questa domanda del nostro amico, vediamo che sta caricando, eccolo, sentiamolo. Abbiamo tanto le strutture che abbiamo bisogno e il risultato che ci prenderà per rispondere la responsabilità della Reserva federale e serve come il piede della nostra economia. L'economia non funziona per nessuno. In particolare, senza la stabilità di prezzi, non avremo un'attività di prezzi per nessuno. In particolare, senza la stabilità di prezzi, non avremo un periodo di lavoro forte. In particolare, senza la stabilità di prezzi, non ti è una esperanza di QTSS correntare i fondamenti, noi abbiamo già un'attività di prezzi, che anche un'attività di prezzi, sono stati in particolare, e hanno un'attività di prezzi per 90 gradi. Abbiamo già un'attività di prezzi per 90 gradi, Ancaldi, non avremo un'attività di prezzi per 5, che è un'attività di prezzi per 70 gradi, ci è un'attività di prezzi per seconda. Abbiamo già un'attività di prezzi per 50 gradi. In particolare, sicuramente, In più siamo accettati a tutti i finanziamenti, ma poi te li sentirei per un po' di tempo. Ok, poi GDP 26, però per tutto l'anno senza prezzo. Ora la spesa è scesa perché c'è l'intro reale più sceso. L'investimento del business è molto alto e il aumento dei salari è molto elevato. Il mercato è molto alto e il mercato è molto alto, con il mercato è molto alto. Non ci sono abbastanza rossi distribuiti. Poi dobbiamo andare al 2%. Allora, i soldi dei prezzi sono chiaramente visibili attraverso uno spesso di beni e servizi. Ma non possiamo essere così, adagiarci. Più contiene l'infrazione e più vengono ancora alti questi atti semplici. Allora, i prezzi alti di prezioni causano per pressioni forti. I impegni essenziali abbiamo un forte impegno nel ritornare al 2%. E rigurro l'attività del nostro bilancio. Allora, una posizione di politica monetaria ristruttiva nel tempo di tornare al 2% per anni. Questo è il tempo. Allora, qui sta parlando dell'impatto descritto della politica monetaria. Questo è molto importante. A qual punto? Un certo punto. Sarà appropriato di rallentare il ritmo di questi aumenti. Allora, però c'è ancora molta incertezza intorno a questo livello. Abbiamo ancora un bel ministro adattare. Allora, Gian, scusami, ti interrompo solo un attimo perché ci sono un po' di problemi di connessione. Gli amici ci stanno scrivendo, però vabbè, facciamo così. Ti chiedo di scandire più possibile le parole. Poi dopo, amici tranquilli, ci scusiamo, è proprio un problema di connessione, faremo un riepilogo veloce con te, Gian. Facciamo un riassunto di quello che ha detto così riusciamo a spiegare meglio i punti fondamentali. Però torniamo da Powell, cerchiamo di parlare, insomma, canta quasi. Fai il tenore stasera, Gian. Ok. Grazie mille. Torniamo da Powell. Poi comunque facciamo il punto insieme e non ci perderemo il discorso di Powell. Prego. Il record storico di non abbandonare finché noi abbiamo completato il nostro lavoro. Tutto lo facciamo è per servire la nostra missione pubblica. Adesso grazie, aspetto le vostre domande. Sono precondizioni per curre il ritmo al quale aumentate i tassi. Un po' di cose su questo. Un po' così. Allora, non sarà questo. Allora, dobbiamo portare la nostra politica monetaria. Un po' di cose restruttive. Ho great. Un po' di cose restruttive. Troppo inizia. Un po' di cose restruttive. Sì, questo è stato un po' di cose restruttive. E se ne hanno altri 75 punti base di aumento? Come livello tasso e quanto tempo rimanerci? Allora, questo è importante, ci metteremo expeditions 5 di 75 punti base. Expeditioni vuol dire veloce. Allora, questa è la domanda. La situazione è persistente e forte. Questo è importantissimo. Allora, per i veri 2%. C'è ancora un terreno da fare. Questo è importante. E potremmo arrivare a livelli più alti, quelli definiti a settembre. Ma però c'è incertezza tra il fatto e la politica monetaria. A un certo punto sarà appropriato di aumentare il ritmo. Allora, importante potrebbe essere la prossima riunione o quella dopo. Allora, se ne parlerà la prossima riunione. E questo è importante. Moderare il ritmo degli aumenti. Questo è importante. Ne parleranno alla prossima riunione. Viste tutte le preoccupazioni del mondo. Non penso che abbiamo troppo stretto. E non credo che abbiamo interesse. Questa è la possibilità di questi livelli di inflazione. E questo è stato un momento dove abbiamo discusso di quello che potete significare. E io credo che il nostro programma è stato buono. E ha avuto successo. Però c'è del terreno ancora da coprire importantissimo. Lui è molto cauto. Molto cauto. Gian, quindi scusami. Una cosa importante perché questa era effettivamente una risposta che si aspettava. Darà maggiori indicazioni nella prossima riunione. Giusto? Loro discuteranno nella prossima riunione di quanto potrebbe essere appropriato moderare il ritmo, il passo di questi aumenti. Non dice che poi ci dirà esattamente come ha detto, ma lo metteranno sull'agenda. Ok, allora, quindi possiamo adesso dire con certezza che, visto che tutti si chiedevano se Jerome Powell in qualche modo avrebbe anticipato i prossimi rialzi, no, e soprattutto ha detto anche che verranno valutati nella prossima riunione, ma questo significherà che poi, come dire, la decisione ultima sarà relativa a quello che succederà in questo mese. Ecco, questo è un po' riassunto. Se non decideranno lì, sul posto, però discuteranno. Certo. Qui dice che a questo punto nulla di fisico, ma che cominceranno ad aprire la discussione e i criteri necessari. Allora, esatto. Poi ha parlato di inflazione persistente, ha parlato di programma che l'ha definito buono, che ha avuto successo. Dopo ti chiedo se sei d'accordo, Jeanne. E c'è ancora molto da fare, però ovviamente non nasconde le difficoltà, come ha fatto l'altra volta. Non ci sono le mani di andare, sono molto chiari. Non siamo vicini alla fine. E' che il tasso finale potrebbe essere ben superiore a quello definito nel settembre. Ok. Allora, intanto ci sono degli amici che ci salutano. C'è Francesco che dice Grazie, siete l'unica trasmissione che ci fa ascoltare cosa dice Powell. Mi spiace solo che stasera ci sono un po' di problemi di connessione, quindi vedete però che ogni tanto mi inserisco anch'io, così ne parliamo io già. Stiamo facendo un accostro medio. Sì, ma certamente. Purtroppo la connessione non dipende da noi. Noi siamo qui e ringraziamo anzi Jeanne Ergas che ci dà sempre una mano. Però chiaramente a fronte di problemi che non possiamo risolvere nell'immediato, cioè della connessione magari, no? Poi facciamo dei piccoli riassunti noi. Quindi vedete che insomma se avete il piacere di stare con noi vivi terremo aggiornato. Allora, torniamo a sentire che cosa stanno chiedendo i giornalisti. Grazie. Allora, se noi vedessimo queste attese inflattive a lungo termine salire, questa sarebbe una grossa preoccupazione. Adesso sono un po' scese. C'è un po' scese. Siamo 18 mesi into this episode of high inflation and we don't have, you know, a clearly identified scientific way of understanding at what point inflation becomes entrenched. And so, you know, the thing we need to do from a risk management standpoint is to use our tools, to use our tools, to forcefully the time, and to get into inflazione a che punto queste attese diventano inaugurate. That's what we really need to do and what we're strongly committed to doing. stiamo cercando di combattere queste attese inflattive e far scendere l'inflazione. Allora, questo è importante. Voi ti parlate dell'impatto differenzo di questi spazi, questi lag. Come definite questi lag? with long and variable lags and that it works first on financial conditions and then on economic activity and then perhaps later than that even on inflation. So that's been the thinking for a long time. There was an old literature that made those lags out to be fairly long. There's newer literature that says that they're shorter. And, you know, the truth is we don't have a lot of data of inflation this high in what is now the modern economy. One big difference now is that it used to be that you would raise the federal funds rate, financial conditions would react and then that would affect economic activity and inflation. Now, the financial conditions would react. Aumentavamo i federal funds e i mercati finanziari, i mercati finanziari reagivano. Allora, prima era inattesa, praticamente, il mercato anticipava. Perchè il mercato anticipava. Allora, alcuni invece dico, alcuni dicono che una volta che cambiamo le decisioni finanziarie e gli interessi, si interessa il mercato, il mercato anticipava. Questo non lo sappiamo. Però loro non lo sanno, per cui è molto agnostico su questo punto. Non si impegna. Se stringiamo troppo, se stringiamo troppo c'è la recessione in poche parole, se non stringiamo abbastanza diventa ancora alto. Questo è importantissimo, questo è importantissimo, non vogliamo sbagliare e non stringere abbastanza. Adesso che viviamo in questo territorio restrittivo, possiamo iniziare a pensare un po' di tipo a questo impatto di ferito. Saranno cauti. Allora, importantissimo, è molto prematuro di cominciare a pensare a una pausa, importantissimo. Allora, c'è ancora molta strada da fare prima di fare una pausa in una frase più importante della conferenza. Non abbiamo esattamente idea di dove sia questo mitico livello, vorrebbe dire Powell. As you look around the economy, the clearest impact of your tightening so far has been on housing, maybe some venture-funded tech companies. It's been relatively narrow in terms of labor market, consumer demand, a lot of sectors. You don't see a ton of effect. Is the pathway and channels through which monetary policy works changing? Is it narrower than it used to be? And on housing in particular, are you at all worried that you're crimping housing supply in ways that might cause problems down the road? I don't know that the channels through which policy works have changed that much. I would say a big channel is the labor market and the labor market is very, very strong. Very strong. And household, of course, have strong balance sheets. So we go into this with a strong lock of stress here. Presentation Ho fatto bene a chiedertelo, ho fatto bene a chiedertelo perché non ero sicura. Se si dice è prematuro. Eh, allora ecco, ma infatti mi sembrava strano di aver detto opportuno, però ho detto aspetta che chiedo proprio anche per gli amici che ci seguono. Allora, attenzione, questa appunto, come ha detto anche John Ergas, la frase più importante perché ovviamente tutti si stanno chiedendo se la Fed stia già cominciando a pensare a dei rallentamenti. No, Powell dice è prematuro. Ecco, bene, meno male che ti ho interrottuto. E allora io sto guardando il mio fido telefono che mi dà un SP500 in calo di 4206. Eh, vedi, vedi, ecco, ok. Era quella frase. Questo sta spaventando, spaventerà secondo te? È la frase che spaventerà maggiormente? Sì, è una frase perché tutti, molti, non dico tutti, ma parecchi, dicono guarda John che adesso farà una pausa. Non la fa per nulla. Appunto, e infatti guarda, sono sull'SMP500, sono tornati in negativo i mercati, erano saliti in positivo, erano stati in qualche modo rassicurati. Un attimo, Gianna, adesso ti do subito la parola, se no ci accavaliamo. Erano stati per un istante rassicurati, mentre invece adesso vediamo l'SMP500 cedere di quasi un punto e mezzo percentuale. Meno 1,37 sta perdendo, il Nasdaq meno 1,77, il Dow Jones meno 0,81. Prego, Gian, perdonami, ti ridò la parola. Però ecco, il mercato sta mostrando la sua paura in questo momento. Prego, Gian, sentiamo. Allora, a questo punto il rapporto tra richieste di lavoro e lavoratori disponibili, come interpretate? Cosa è una cosa più importante? Gli stipendi? E' talmente squilibrato questo rapporto, noi vediamo un grosso spettro di dati, disoccupazione. Siamo al basso dell'anno, disoccupazione, 1.000 e 3 pezzo. Sono un piccolissimo momento, l'offerta che aveva avuto un prestato. Invece non c'è stato questo momento in lavoratori che noi credevamo ci sarebbe stato. Allora, qui vediamo l'affiattimento degli stipendi. C'è un'affiattimento che è andato di luce in questi dati. e la creazione di posti di lavoro ancora eccedono e effettivamente. C'è un'affiattimento che è un'affiattimento che è un'affiattimento graduale. E' un'affiattimento che è andato. E' magari questo è lì, ma non è ovvio. Perché i stipendi non stanno scendendo. Sanno solo spingendo a un livello elevato, sia l'ECI e le nostre rendite. Non possiamo guardarci, ci sono dei segnali di metto. Perché i stipendi non stanno scendendo. Questo è importantissimo. Importantissimo. Dunque noi dobbiamo stringere questa lantifona. Quindi vediamo questo un po' perdimento. Vediamo questo un po' perdimento. Lui non crede che gli stipendi siano la ragione principale per cui sono i prezzi. non abbiamo bisogno di ascoltare. Vengono a ascoltare. E' consistente con 2% di inflazione. E noi crediamo che, given il dato che abbiamo, che il livello è un'affiattimento che è sostenibile. E' un'affiattimento che è sostenibile. E' un'affiattimento che è sostenibile. E' un'affiattimento che è sostenibile. Credo che c'è sostenibile per questo. Ma non saperemo questo. Questo sarà scoperto empiricamente. C'è spazio affinché scendano questi stipendi o quelle prezioni salariali, ma non ne siamo sicuri? A questa domanda sull'azienda. C'è spazio di una crisi economica profonda. E' spazio di come la fede sta sostenendo gli sviluppi internazionali, in grado di una economia molto forte qui, che sembra di sostenere queste strade. Allora, qui effettivamente, sembrate andate contrario a questi rischi internazionali. Compartiamo anche gli sviluppi geopolitici. Siamo in contatto molto frequente. Allora, i nostri controparti, noi ci parliamo spesso. C'è una crisi economica profonda. C'è una crisi economica profonda. E' una crisi economica profonda. che noi ci vediamo. Allora, c'è un problema che si rompono il TRC, la guerra in Ucraina. E il dollaro. Prendiamo tutto questo in considerazione. Abbiamo una economia forte, E' resistente. E' resistente. E' lo tipo di cosa che pagna i dividendi per la nostra economia per decadenti, forse. Anche se sia difficile tornare, tornare tornare è qualcosa che dà valutare ai nostri servizi per l'anno. Allora, lui dice certamente in tutti questi discorsi internazionali, fin dalla fiera, cosa più importante, è domare l'inflazione statunitense. Voi avete già ammesso nel passato che i vostri strumenti non impaffano cose come l'energia. E mentre voi proseguite questa strada, non c'è il rischio che perché i prezzi non scendano. Allora, però, questo è vero, ma se noi impattiamo sulla domanda, al margine c'è l'impatto. Il problema principale è l'energia. Negli Stati Uniti è qualcosa che possiamo effettuare. Credo che con le azioni che prendiamo, però, noi abbiamo gli strumenti adatti. Allora Gian, mi inserisco per, intanto, stiamo guardando anche con la finestra del grafico l'euro-dollaro, che vede l'euro che dapprima aveva cominciato a rafforzarsi nei confronti del dollaro, o meglio, il dollaro che si stava indebolendo nei confronti dell'euro, adesso si sta un po' ridimensionando. Siamo scesi ancora. Eravamo ancora comunque sotto la parità, ma il cambio era 0,99, adesso siamo a 0,98,84. L'euro è ancora in territorio positivo, ma solo dello 0,11. Siamo scesi ulteriormente. Quindi ti chiedo cosa ne pensi sul discorso del dollaro, visto che peraltro anche Powell stava parlando del dollaro. E poi se facciamo un piccolo riassunto dei punti importanti che ha toccato appunto in queste risposte che ha dato ai giornalisti, così aggiorniamo anche i nostri amici che ci stanno seguendo. Dollaro, partiamo da qui. Perfetto, allora dico subito, il dollaro me l'aspettavo, per cui c'è chiaramente una Fed che non smette. Noi vediamo una Fed, come ho detto prima a Bud Spencer, vediamo una Fed che tirerà dritto, andiamo a una Fed che ci viene a dire che la preoccupazione del costituzionale sono gli altri paesi, gli Stati Uniti e il loro tasso di inflazione. Dunque io vedo qui, ossia esaltate, diciamo, le mie idee di un po' che prima. Questo è un problema. Quindi diciamo che il dollaro, l'atteggiamento, cioè il comportamento dell'euro dollaro era ovvio, perché la Fed ha detto noi proseguiamo, proseguiamo, proseguiamo. Esatto, esatto. Questo è molto semplice, per cui il mercato non vedrà questa caduta repentina dei tassi americani e la famosa pausa, questo è importantissimo. Poi, altro punto, abbiamo detto a Vicente che non farà una pausa, che non la farà adesso, che è prematuro parlarne, che loro a prossima riunione cominceranno a discutere delle modalità, dei criteri per poi poter moderare la politica monetaria, questo è estremamente importante. Quando ha parlato di questa discussione, proprio sull'impatto differito, tassi di interesse ed economia, dice che loro sono agnostici, non sanno esattamente qual è questa relazione, ma che la stanno studiando. Dunque, ricordiamoci, questo non facerà stare così tanto tempo tra un aumento e l'altro, non diranno, ah no, ci vogliono nove mesi, non faremo, questo è estremamente importante. Dunque, noi qui stiamo vedendo, per riassumere, un Paolo abbastanza falso, che apre uno spiraglio, non fa promesse, non concede nulla, continua a parlare di ongoing, aumenti che continuano in renda, non si spegna assolutamente su tipistica, e in più di più, questo tasso finale sarà più alto di quello che si pensasse nel mese di settembre. Dunque, questo vuol dire che possiamo andare al 5% facile. Eh sì, e peraltro appunto possiamo riassumere tutto questo con una parola, che è quella che spaventa maggiormente i mercati, incognita, cioè gli analisti, gli operatori si aspettavano ovviamente magari delle risposte, sto cercando di tradurre un po', no? Quello che è il sentiment degli operatori, delle risposte un po' più certe, perché sappiamo molto bene che ciò che infastidisce i mercati è l'incertezza, invece emerge l'incognita futura, ma Gianna, era ovvio forse che fosse così, proprio per il panorama, per lo scenario insomma anche macroeconomico incerto che abbiamo di fronte? Io direi di sì effettivamente, però Paolo dice sì, io accetto che c'è un panorama incerto, non sembra importarmi nel più di tutto questo uomo, dice la nostra missione, e qui lui dice che io parlo con le mie contrapanti, le altre banche centrali, non dice concordiamo una strategia, questo è estremamente importante, la distinzione che c'è tra parlare con una controparte e decidere insieme, lui è ferocemente sulla linea mondina, dottor, 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 l'America, gli americani, priorità, Stati Uniti, questo è importantissimo, American First insomma, loro sono completamente apocalizzati sul mercato del lavoro. Per citare lo slogan di un personaggio ben noto, American First fondamentalmente. Sì, questo è American First. Esatto, esatto infatti. Ecco, intanto i mercati americani continuano a rimanere sotto la parità, hanno recuperato leggermente, ma insomma vediamo per esempio l'S&P 500, possiamo inquadrarlo, che perde lo 0,82%, il faro dei mercati azionari, a ruota, il Dow Jones è meno 0,32%, e il Nasdaq meno 1,33% è l'istino che perde di più. Allora, torniamo alla conferenza, anche perché piano piano credo che ci avvieremo verso le battute finali, diciamo le questioni più importanti sono già emerse come sempre, andiamo a sentire se c'è qualche altra sollecitazione che può essere interessante per chi ci segue, per chi opera sui mercati. Jeanne, prego. Dice che il problema è questo, se non facciamo nulla poi dobbiamo tornare con ulteriori politiche restrittive, questa è l'antipola. Lui lo dice da tempo, dice meglio stringere adesso che restringere il doppio dopo, questo è più o meno quello che sta dicendo da molto tempo. che è il livello che abbiamo bisogno di ottenere il risultato. E non lo so che faremo quando ci siamo arrivati, per esempio, ci siamo dovuti vedere. Non c'è nessuna decisione o discussione su quali stessi che prenderemo a questo punto, ma la prima cosa è trovare il risultato. Allora, se non è stata una discussione per chi, sulla riduzione dei tassi e su queste cose è pausa la cpi e la pce capturare i rents per allo tenere e non solo i nuovi e che faccia perché per questo motivo che è il risultato il risultato per la moneta e la stessa è truata per l'equivalente che è un risultato di tenere i privati misure, sono ovviamente buone a prendere, al margine, le nuove leggi, e dicono un po' di cose. Una cosa è che ora, se guarda il pattern di quella serie, delle nuove leggi, è molto trocyclico. Ok, perdonami perché avevo paura che fosse cascata la linea. Sì, perfetto, perfetto, vai tranquillo. Certo, certo, vai. Via un po', qua c'è un problema di connessione, via un po'. Sì, sì. Sì, sì. eventualmente l'inflazione scenderà. Questi sono gli affitti, questa è la quale componente più importante dell'indice, sono gli affitti, eventualmente questi affitti scenderanno. Allora Gian, cominciamo a tirare un po' le somme di questa conferenza, perché tanto appunto adesso giustamente poi le domande cambiano, poi magari teniamo lo stesso la doppia finestra. Ecco, bravissimo Luigi, mi ha letto nel pensiero, così vediamo un po' cosa succede. Allora, sei d'accordo che la frase proprio clou della conferenza è prematuro cominciare a pensare a una pausa? Da qui parte tutto, giusto Gian? Ma io che ho effettivamente, lui ha detto prematuro pensare a una pausa, loro continuano a fare questi aumenti, non ci dirà di quanto saranno questi aumenti, rideranno, però chiaramente il loro obiettivo principale è ridurre la differenza, in maniera anche abbastanza spedita. Non guardano proprio all'estero, guardano con l'estero, non decidono con l'estero. Comunque qui c'è una politica americana, America first, dottrina Monroe, molto 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 marcante. Questo è il più. Il secondo punto, direi effettivamente, è che loro vedono oramai questa inflazione scissa da questi fattori energetici esterni, e l'inflazione americana è un problema interno. Ok? Questa è la grossa differenza tra noi qui e l'Eurozona, l'Europa in generale, perché è molto importante. Allora gli chiedono, ma lei non può impattare anche a quel che riguarda l'energia e l'energia? Dice no, però possiamo operare sulla domanda, far scendere la domanda e magari quella componente lì ridurre il peso. Ossia questo è molto importante. Il terzo punto, secondo me, che è molto importante qui, è che lui dice che questo tasso finale dovrà essere superiore a quello immaginizzato. Nel mese di settembre, dunque possiamo facilmente andare, se quello è su 4,6, ci sta dicendo praticamente che può essere il 5. Se ricordiamocelo, qui siamo a dei livelli piuttosto alti. Poi aggiungerei anche che c'è stata un'unanimità all'interno del comitato. Lui non si impegna su, diciamo, all'entità, da ovviamente i futuri, però continueranno ad aumentare i tassi. Questo non è un comunicato di colomba. Questo non è un comunicato, dice sì ragazzi adesso smettiamo tutto. Assolutamente no. La fede ha spiegato esattamente quello che noi dicevamo. Apre uno spirale, non apre il portone e la cosa finisce lì. Quindi bisogna ancora tollerare questa insistenza da parte loro che loro poi diceranno vota per vota. Sarà questo il discorso. Esatto. Peraltro già nel comunicato, quando era uscito, abbiamo subito letto, a parte l'insistenza nel dire che l'obiettivo primario del comitato è quello di riportare l'inflazione al 2%, ma si parlava di lungo periodo Gian, quindi forse questo Gian anticipava un po' quello che poi ha detto in conferenza. Sì, ma lui è dopo Gian, però nessuno dice che si può ritornare a questo livello dall'oggi al domani. Lui dice nel tempo, lo premo, cos'è questo tempo, nessuno lo sa. Questo signore non ci ha dato nessuna indicazione dei criteri necessari per attempiere, diciamo, passare alla fase successiva. Questo è estremamente importante. Lui non si impegna su assolutamente nulla a costruire. Lui dice qui continueremo ad aumentare i tassi, prenderemo in considerazione la grossa differenza, questo impatto differito dalla politica monetaria sull'economia reale, ma non vi sto neanche qui a dire quale lazzo di tempo vedremo o concederemo. Questo è importantissimo. Qui loro hanno tutte le carte in mano, fanno quello che vogliono. Loro hanno una briscola, ne hanno tre o quattro di briscola a questo punto. E secondo me, qua bisogna fare molta attenzione, perché adesso ci sono anche i dati sul lavoro che usciranno domani, che conferono parte dei membri della PED. Secondo me il loro ruolo non sarà molto conciliante a questo punto. Loro ci andranno così. Qui ci hanno bisogno di questa inflazione. Anche se a proposito dei dati macro, peraltro il comunicato di questa riunione, a parte proprio da una fotografia della situazione economica americana, proprio anche quelli che sono stati pubblicati oggi, nelle scorse ore, anche sul Manifatturiero, hanno dato comunque dei risultati sopra le attese. Sì, sì, perché io credo che effettivamente ci sono anche stamattina, se anche questa è una fotografia americana, si mostra robusta, si mostra resistente. Qui nonostante abbiamo aumentato i tassi di 300 punti base, la manifattura continua a espandersi, anche se è un tasso modesto, i consumatori continuano a consumare. Ossia ricordiamoci, qui ci sono molti punti soldi in giro, c'è molta liquidità e le insolvenze sono bassissime, sia personali, sia a livello aziendale. Dunque questo signore ha a che fare con l'economia, che dimostra di avere una certa resistenza anche a questa politica monetaria, dal punto di vista della domanda, e del drenaggio e della liquidità eccessiva nel sistema. Questo è importantissimo, questa è un'economia robusta, lo si vede anche nel mercato del lavoro, che è molto forte. Abbiamo commentato anche, scritto, che il vero problema a questo punto è il mercato del lavoro, come dicevo prima, è questa carenza di persone qualificate, ed è lì che sospingeranno all'insù questi spendi. Lui dice che non vede ancora questa grossa onnata stipendi come elemento causale dell'inflazione, ma potrebbe ben arrivare, mi sta arrivando proprio diciamo al nocciolo duro, e qui le progressioni non sono lineari, ma possono essere proprio a scaletta e scata. Dunque questo è molto importante. Loro schiacciamo l'inflazione e continueremo. Allora Gian, facciamo così, andiamo a sentire di cosa stanno parlando, tanto sono sicuramente le battute finali. Poi abbiamo ancora la domanda che ci aveva fatto Augusto sulle lezioni di midterm, e ti voglio sapere cosa ne pensi tu, però sentiamo di cosa stanno parlando. Ecco, così poi andiamo in conclusione. Ah, è finita in questo momento, perfetto, che tempismo. Va bene, si vede che me lo sentivo, ma era chiaro fosse alle battute finali. Allora, rispondiamo a Augusto, appunto aveva chiesto cosa pensi delle lezioni di midterm, cioè come andrà a finire, e insomma se saranno, questo lo aggiungo io, come spesso sono un market mover in questo scenario di mercato che stiamo vivendo. Ma io direi che effettivamente le lezioni di midterm sono stati prevedibili da un lato. Quello è la casa, la House of Representatives, la Camera dei Deputati. Qui secondo me i democrati si presenteranno un sacco di botte, e questo è abbastanza tipico, ma non so quanti seggi potrebbero prendere. Per esempio i democrati, dunque abbiamo una House che diventa repubblicana. Il vero discorso lo faremo sul Senato, dove chiaramente sono minori i rappresentanti, i senatori, e poi in più effettivamente non si rinnova tutti gli anni. Però ci sono tre, quattro effettivamente, non si ha candidature, che avrebbero potuto giocarci tutto. E lì, secondo me, i democratici hanno una scienza di maniera di potere. Ma il discorso di base è molto semplice. Qui non c'è più un controllo democratico su entrambi le Camere. Per far passare la legislazione ci vogliono entrambi le Camere. Questo è molto semplice. Dunque siamo a un blocco. Io penso potrebbe sicuramente impattare se i democratici, per esempio, non sono in posizione di varare ulteriori misure nei confronti, per esempio, del settore energia. Questo potrebbe beneficiare. Dobbiamo vedere anche una cosa molto importante che sarà se riusciranno, con una Camera dei Deputati repubblicana, a favorire ancora questi aiuti all'Ucraina. Questo punto di vista estero è estremamente importante, estremamente chiave. E io credo che lì ci potrebbero essere delle complicanze a livello internazionale. Io non credo che c'era un grosso boom a questo punto post-mid-term. Io credo che la vera issue a questo punto sia la politica della Federal Reserve che si dimostra ancora abbastanza aggressiva, abbastanza coriacea. non vediamo noi a questo punto un forte crollo, un grosso ripensamento su quello che può essere chiaramente la politica della Banca Centrale Americana ed è lì il nocciolo duro della situazione. Sono i tassi di interesse. È tutto lì il discorso. Ci può essere un piccolo bounce, ma non credo che sarà enorme. No, no, no. Infatti, come sempre, ancora le banche centrali, lo abbiamo detto tante volte, hanno le redini della situazione. intanto il mercato americano è molto volatile, insomma, lo abbiamo già visto, mentre, diciamo, fai da sottofondo sonoro. Vediamo l'S&P 500, insomma, in questo momento sta cedendo l'1,24%, quindi, insomma, il faro dei mercati azionari che sta dando evidentemente indicazioni negative per questo power aggressivo. L'S&P 500 l'abbiamo visto, il Dow Jones è almeno 0,54% e il Nasdaq meno 1,83%. Insomma, il mercato sta dicendo, aiuto, che cosa ci aspetta? Traduco proprio in modo molto, molto popolare, Gian. Sì, io credo che ci aspetti questo, ossia, ci aspetti a questo punto molta volatilità fino a venerdì mattina. Ricordiamoci, non ci sarà una tregua qui con le notizie. Abbiamo visto gli ADP oggi che erano molto sopra le attese, dunque un mercato lavoro forte, abbiamo visto i Jones che erano estremamente forti, queste due conferme il mercato lavoro. Vediamo cosa succede venerdì, Paola ha parlato di questo mercato lavoro che continua a essere un balance, ossia fuori equilibrio, dunque una grossa preoccupazione perché lo vedono, questo mercato lavoro come fonte principale di potenziali spinte inflattive. Dunque, adesso fino a venerdì secondo me saranno un po' guardinghi e magari scende anche domani se veramente ci ripensano, dicono, questi fanno sul serio. Dicono che da domani questi signori possano ricominciare a parlare quelli della Federal Reserve. Cosa ci aspetta? Io direi poi facciamo un molto breve termine, andiamo a midterms la settimana entrante, secondo me lo riferirà questa batosta terrificante, batosta, non devo dire che andiamo a batosta ai democratici alla Camera dei Deputati, vediamo il Senato, io non mi aspetto grosse cose, forse ci può essere una allocation, un asset allocation, buying, di quelli che dicono beh a questo punto sai che ti dico io devo rimpinguire la mia asset allocation, per alcune perdite in borsa sono sceso sotto il ratio che devo avere non so di 50 azioni, 50 azioni e qualche sia, ma io non mi sto aspettando grossissime cose qui perché veramente l'area principale era questa, ricordiamocelo, e molti dicevano guarda se quello è moderato tu vedrai che subito l'S&P 500 fa uno schizzo 5% all'insù più questo grande schizzo a 5% all'insù ma oggi non l'abbiamo visto perché poi hai detto bene cioè aggressivo però anche cauto Powell quindi insomma questo movimento non c'è stato peraltro stavo guardando anche l'euro-dollaro che vediamo insieme di nuovo in caduta l'euro quindi stava recuperando probabilmente un po' sostenuto dalle prime notizie che erano arrivate con il comunicato però adesso è tornato in territorio negativo lo vedete nei confronti del dollaro meno 0,26 siamo a 0,9847 e si sta giustamente verificando quello che dicevi tu insomma la Fed che dice continuiamo il dollaro che acquista forza poi vediamo anche i bonds vedo il decennale con 4,0 bravissimo aspetta che lo prendo anch'io non mi soffre assolutamente e credo che chiaramente qui si aspetti ancora il mercato si sta aspettando una stretta e credo che quelli che veramente pagheranno lo scotto adesso di questa politica o di questa non dico politica ma di questo orientamento che abbiamo visto oggi da Federal Reserve saranno i paesi emergenti dunque io farei estremamente attenzione sui paesi emergenti sia dal punto di vista delle loro valute e nonché dal punto di vista della loro stabilità finanziaria perché avranno così filo da torcere con passi di rifinanziamento più alti magari un squeeze sulla reticolocontrazione un squeeze sulla crescita mondiale se i tassi americani dovessero aumentare in maniera sensibile a breve termine che li impatterà come catene di sfornimento e dunque liberamente potremo vedere un po' di burrasca secondo me l'economia che terrà l'economia che terrà meglio sarà questa siamo abbastanza isolati sul punto di vista energia l'abbiamo può anche costare di più che in altri momenti però è disponibile e poi chiaramente farei attenzione proprio alla situazione europea molta attenzione perché lì veramente c'è questo problema energetico molto forte per cui questo è un quadro della situazione attuale dollaro più borsa debole direi finché almeno fino a che venerdì non ci siano grosse sorprese vediamo in metodo la settimana entrante e poi chiaramente molta attenzione ai pesi emergenti assolutamente e va bene allora in ultima battuta Jean come ti aspetti la giornata di domani sui mercati o meglio come proseguirà insomma la contrattazione americana e come anche l'Europa domani potrà diciamo accogliere cioè come avrà accolto le parole di Powell e quindi come aprirà il mercato così facciamo una piccola previsione sì 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 ma io credo che aprirà probabilmente ossia con toni sommessi domani il mercato americano ricordiamoci il mercato americano sto già scontando naturalmente considera quello che ha detto Powell noi siamo ancora svegli vivi e vegeti in altri paesi sono già andati a dormire non ci stanno per andare dunque loro dovranno fare i conti con queste dichiarazioni domani io penso che sarà una giornata sommessa ma io credo che tutto sommato le persone attenderanno le persone attenderanno questo dato di venerdì e vedere ok a questo punto come è la situazione del mercato del lavoro come è la situazione sul aumento salariale qual è la vera disoccupazione negli Stati Uniti e allora li agiranno io penso a questo punto noi stiamo facendo una specie qui di gincana sui mercati dopo ogni due minuti c'è un altro ostacolo un gioco dell'oca ossia saltare il fossato cose di questo tipo per cui qui veramente bisogna fare attenzione secondo me volatilità secondo me giornata tranquilla sommessa domani vediamo quello che succede non credo in grossi rialzi bonds gli rendimenti più dollaro permane forte e molti poi dovranno coprirsi sul dollaro perché hanno fatto delle posizioni short in anticipazione di questa riunione conquistano i short dollaro che si coprono per rimarginare le perdite e questo darà ulteriore impeto forse al biglietto verde questa è un po' è la mia analisi della situazione domani vedremo anche la banca di Inghilterra molto interessante cosa diranno loro ricordiamoci non siamo gli unici al mondo qui negli Stati Uniti come vedono loro la situazione globale e che decisioni prenderanno qui siamo ancora in balia dalle banche centrali qui è scesa la famosa cortina di ferro di cui parlava Churchill molti anni fa è scesa questa cortina di ferro che non è quella del comunismo ma dei tassi che salgono e dobbiamo fare i conti con questo è vero è vero peraltro dopo 15 anni in cui ormai c'eravamo abituati ad avere tassi ovviamente bassissimi e pare lo zero insomma quindi è ancora più evidente questa situazione allora io naturalmente resta con me mentre saluto tutti perché ringrazio gli amici che sono rimasti collegati fino adesso nonostante insomma qualche problema di connessione quindi grazie mille per la vostra fiducia e per essere stati con noi per noi è molto importante perché ci teniamo sempre a esserci durante queste occasioni soprattutto in questo momento nel quale ovviamente si attendono le decisioni delle banche centrali come diceva anche Jean Ergas insomma sono loro che tengono le redini dei mercati da cui poi possiamo fare un sacco di altre riflessioni quindi grazie davvero perché io vedo quanti siete e siete rimasti lì quindi come dire ringrazio naturalmente Jean Ergas che è sempre con noi e insomma e adesso la tua giornata è appena iniziata quindi sicuramente oggi ne vedrai delle belle come si suol dire io invito sempre i nostri amici a seguirci anche su tutti i nostri social sul nostro canale di Youtube peraltro poi verrà pubblicata anche la puntata della Fed di questa sera insomma siamo a vostra disposizione per qualsiasi cosa e poi saluto anche Luigi il regia che mi ha seguita in queste due ore di trasmissione Jean grazie ancora e buon lavoro prego grazie a presto grazie grazie Jean Ergas e grazie anche agli ospiti ovviamente che l'hanno preceduto vi auguro una buona serata e a presto sulle fonti tv grazie a tutti